Tra le tante situazioni da risolvere nelle crisi del siderurgico di Taranto resta quella dei lavoratori di Ilven Amministrazione Straordinaria in Cassa Integrazione, oggi Assemblea dell'USB. Luigi Abate ha ufficializzato in Consiglio Comunale il suo passaggio in maggioranza, che nel frattempo adesso chiede le dimissioni del Presidente del Consiglio, Piero Bitetti. Il parlamentare stavese Dario Iaia è stato nominato membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Iaia dice, ringrazio il Presidente Fontana e il capogruppo di Fratelli d'Italia, Foti, per la fiducia. Nuovamente in diretta, ben trovati, è il momento dell'informazione dedicata a Taranto e provincia. C'è il siderurgico ionico in primo piano, tra le tante situazioni ancora da risolvere nella crisi appunto dell'ex Ilva, resta quella dei lavoratori di Ilven Amministrazione Straordinaria in Cassa Integrazione, oggi Assemblea dell'USB. Ci sono anche loro, gli oltre 2.000 operai di Ilven A.S. in Cassa Integrazione, che avrebbero dovuto essere reintegrati in fabbrica nello scorso anno, secondo l'accordo sindacale del 2018, poi modificato. Di loro si parla di meno, soprattutto dopo la nuova amministrazione straordinaria che ha riguardato Acceieria d'Italia. Ma anche per loro c'è l'urgenza di sapere cosa accadrà e la preoccupazione per il futuro. Temi al centro dell'Assemblea convocata dall'USB all'Hotel Salina, con Franco Rizzo dell'esecutivo nazionale, e l'avvocato Mario Soggio, ufficio legale USB Taranto. Adesso chiediamo di fare un ragionamento e di emettere un decreto in favore dei lavoratori, in cui si parli di riconoscimento dell'amianto, di riconoscimento del lavoro usurante. È scandaloso che l'asiderurgia non rientri all'interno dei lavori usuranti. C'è più usurante dell'asiderurgia, credo che non esistano attività in Italia. E come dire, noi purtroppo siamo tirati fuori da questo meccanismo. Vogliamo parlare degli incentivi all'esodo, vogliamo parlare degli LPU che possono dare dignità ai lavoratori perché danno anche dignità alla comunità, la disponibilità dei lavoratori a rendersi partecipi al miglioramento della condizione generale delle varie comunità. Noi avevamo stipulato un accordo con Acceieria d'Italia che prevedeva l'assunzione di tutti i lavoratori dell'ILVA perché 2.500 dei lavoratori che erano assunti sono rimasti in cassa integrazione. Adesso la prima cosa da verificare è se noi possiamo e noi rivendicheremo l'esecuzione di questo accordo, quindi l'assunzione di questi lavoratori. Luigi Abbate ha ufficializzato in Consiglio Comunale il suo passaggio in maggioranza che nel frattempo adesso chiede le dimissioni del Presidente del Consiglio, Piero Bitetti. Il Comune di Taranto ha di nuovo una maggioranza risicata ma ormai certificata dai numeri, 17 più il Sindaco. Luigi Abbate ha infatti annunciato in apertura di Consiglio Comunale il suo passaggio organico tra le file dell'amministrazione Melucci, come aveva preannunciato ai microfoni di Antenna Sud, una scelta fatta nel nome di un civismo che invece è stato considerato un autentico tradimento da parte di tutta l'opposizione. Ho appena consegnato al protocollo una mia comunicazione con la quale annuncio il mio passaggio, formalizzo il mio passaggio in maggioranza. Il 19 febbraio doveva essere il 17esimo firmatario dal notaio per sciogliere la consigliatura. Dopo meno di un mese Abbate diventa la stampella decisiva della nuova maggioranza senza partiti che ora parte all'attacco del Presidente del Consiglio Piero Bitetti. I lavori della seduta consigliare sono stati segnati dall'uscita dall'aula in più occasioni dei consiglieri d'opposizione per far mancare il numero legale, garantito solo nella prima fase della presenza in aula di Bitetti che poi è uscito dall'aula senza farvi più ritorno, episodio duramente stigmatizzato dal Sindaco Melucci. Non ho mai visto un Presidente del Consiglio lasciare sguarnito un Consiglio Comunale, se non appena di mancare di terzietà, visto che non l'ha lasciato quando si votava per la sfiducia al Sindaco, vorrei capire la differenza, ma questo lo lascio riflettere a voi. Subito dopo è stata formalizzata da parte dei consiglieri di maggioranza Abbate compreso la richiesta di dimissioni per Bitetti, violata scrivono la neutralità della sua funzione. In Consiglio è ormai battaglia a tutto campo. Rinnovo Consiglio Provinciale a Taranto da un lato le direttive di partito a sostegno dei propri candidati, dall'altro il Sindaco di Grottaglia che afferma con la mia maggioranza in maniera condivisa abbiamo deciso di non votare. A Grottaglia i consiglieri comunali del PD, Aurelio Marangella, Ciro Petrarulo e Francesco Donatelli, sosterranno Lucio Lonocce nelle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale il 17 marzo. A confermarlo è Massimo Serio, presidente del PD Ionico, contattato telefonicamente. L'amministrazione grottagliese vive una situazione alquanto singolare, con i consiglieri PD seduti tra i banchi dell'opposizione e Aurelio Marangella, presidente del Consiglio. Cosa accadrà dunque nella maggioranza di Dalò? E considerando che la lista terra ionica è composta tra gli altri, oltre al PD, dal movimento 5 Stelle, quali saranno le direttive cosiddette di partito per i pentastellati in maggioranza a Grottaglie? Simone Mirto e Giusi Cassese, a chi risponderanno? Al Movimento 5 Stelle o alla propria amministrazione? Intanto la comunicazione del PD è ufficiale, anche attraverso una nota stampa. Ufficiale è anche la versione del primo cittadino della città della ceramica che ai nostri microfoni aveva detto. Abbiamo condiviso l'idea di non andare a votare. Il dubbio dunque è legittimo. Si era deciso in maniera condivisa di non votare oppure no? Equilibri che, come a volte accade in politica, potrebbero diventare precari. Non resta dunque che attendere il 17 marzo. Quello, tra presenti e astenuti, sarà il momento della resa dei conti. Trovata la quadra per il nuovo stadio Iacovone da realizzare per i giochi del Mediterraneo, Sport e Salute ha trovato la soluzione progettuale per permettere al Taranto di giocare nella struttura anche nel corso dei lavori. Dopo oltre quattro ore di riunione, alla fine è stata trovata la soluzione che accontenta tutti. Il progetto del nuovo stadio Iacovone, elaborato dai tecnici di Sport e Salute, è pronto e permetterà di effettuare i lavori mantenendo aperta la struttura per le partite di campionato del Taranto con una capienza di 4.000 spettatori. E l'esito dell'incontro fiume è ospitato nella sede della struttura commissariale dei giochi del Mediterraneo, presso la cittadella delle imprese, presenti oltre al commissario Massimo Ferrarese, l'amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e i tecnici delle parti in causa. Il nuovo Iacovone avrà la copertura integrale con pannelli fotovoltaici e 21.000 posti a sedere. I pannelli esterni richiameranno le onde del mare. L'inizio dei lavori è previsto a novembre 2024 con un impegno di spesa che sale da 28 a 45 milioni di euro, ma la demolizione degli anelli inferiori dovrebbe cominciare già a fine campionato. Tutto ok anche per il Palaricciardi, l'impianto sportivo polivalente avrà 1.500 posti a sedere con un investimento di quasi 20 milioni di euro. Anche in questo caso l'inizio dei lavori è previsto a novembre. È la città dei due mari e lo stadio sarà un abbraccio fra i due mari. L'idea è quella che in 18 mesi si dovrà ristrutturare e riqualificare lo stadio con la possibilità di mantenere la squadra di calcio a giocare all'interno dello Iacovone. Ho visto il progetto e sicuramente lavorando seriamente con grandi imprese disponibili a fare questo si può. Tenga presente che questo chiaramente fa lievitare anche il prezzo. Il parlamentare savese Dario Iaia è stato nominato membro della commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuele Orlandi e Mirella Gregori. Iaia dice, ringrazio il presidente Fontana ed il capogruppo Foti per la fiducia. Il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sindaco di Sava Dario Iaia è stato nominato membro della commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuele Orlandi e Mirella Gregori. È il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana a comunicare l'importante incarico all'onorevole savese con alle spalle una formazione professionale d'avvocato penalista. Un ruolo rilevante di grande responsabilità per i due misteri definiti tra i principali casi irrisolti della storia italiana e del Vaticano. Ed è proprio nella cittadina vaticana che nel 1983 scomparvero Mirella ed Emanuela, entrambe 15 anni, il 7 maggio la prima e il 22 giugno la seconda. Emanuela rientrava a casa dopo alcune lezioni di musica, mentre Mirella, dopo aver risposto al citofono di casa e aver raggiunto un barlimitrofo. Due casi ritenuti dagli investigatori legati l'uno all'altro ancora con una verità sospesa. Ringrazio il presidente Fontana e il capogruppo Foti per la fiducia, ha detto Iaia con orgoglio, accettando di affrontare il delicato incarico. Pur consapevole della difficoltà, poi concluso l'onorevole, intendo fare la mia parte con massima attenzione e serietà. Tra la ramificata rete di approvvigionamento e cessione di sostanze stupefacenti all'interno delle carcere di Foggia scoperte dalla Guardia di Finanza di Bari, anche due manduriani. Anche due manduriani tra le 16 persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Bari, le accuse corruzione e traffico di sostanze stupefacenti nel carcere di Foggia. I messapici sono madre e figlio, la donna 63 anni incensurata, il figlio 39 anni già in carcere con precedenti reati. La manduriana è accusata di aver provveduto a rifornire droga al figlio detenuto all'interno del carcere foggiano con la complicità di un'infermiera in servizio. Dagli atti di inchiesta, il detenuto 39enne manduriano avrebbe spacciato droga tra i detenuti grazie all'intermediazione dell'operatrice sanitaria, che avrebbe sfruttato la propria mansione in carcere. Dalle intercettazioni, due documentate, a pagare la fornitura di droga dai 100 ai 500 euro sarebbe stata la 63enne manduriana attraverso ricariche di carte prepagate intestate alla figlia dell'infermiera e sarebbero venute in un ufficio privato di poste italiane di Manduria, il cui titolare non è indagato. Nell'inchiesta della procura di Foggia, essere invece l'indagata principale è l'infermiera già arrestata nel 2023 in fragranza di reato perché avrebbe reso possibile l'introduzione sistematica di droga nel penitenziario. Si avvicina la settimana santa con le sue processioni, il momento più atteso dell'anno per i tarantini tra fede, tradizione e spiritualità. Ne abbiamo parlato con Mauro Tatulli, direttore del centro commerciale Porte dell'Oionio. È una settimana particolare, importante per la città di Tarno perché è un momento di aggregazione per tutta la popolazione, non solo per la popolazione locale ma anche per la popolazione che viene dall'esterno della città. Noi come centro commerciale vogliamo essere vicini a tutto quello che succede in città, però vogliamo essere in modo attivo a questi progetti. Per questo motivo abbiamo deciso di essere partner del progetto di Antena Sud per dare la possibilità alle persone che stanno a casa o alle persone che sono addirittura all'estero, di poterci seguire per poter mantenere sempre attiva quella che è la tradizione della processione dei misteri. Noi come centro commerciale vogliamo comunque sempre spingere su quelli che sono i punti importanti di questa città. L'abbiamo fatto anche durante la costruzione e l'ampliamento del centro commerciale perché abbiamo messo, abbiamo creato dei riferimenti a quelli che sono le colonne d'oriche, al Castello Aragonese, ai marinai, alla ringhiera del lungomare, tutti quegli elementi caratterizzanti della città di Taranto l'abbiamo voluto in qualche modo replicare all'interno del centro commerciale, proprio per mantenere quella vicinanza e confermare sempre che Porto Loionio è una piazza della città, una piazza coperta, è un'agora della città ed è aperta a tutte quelle iniziative che possono servire a far sviluppare la città, la socialità della città. Ed è tutto il Tg dedicato a Taranto e provincia termina qui, ci fermiamo per qualche istante tra poco. Un incidente ancora tutto da chiarire, quello che è costato la vita un operaio brindisino all'interno dello stabilimento Gindal nella zona industriale, proprio oggi avrebbe compiuto 37 anni. A brindisi il materiale di risulta della pista ciclabile abbandonato davanti al tribunale e in molti pensavano fosse un cantiere, mentre colline di rifiuti abbandonati con buste nere accatastate ci sono nel quartiere San Lorenzo di Francavilla Fontana, dove allarme sociale e sanitario. A brindisi il primo appuntamento con tradizione e innovazione per le botteghe Aite. Ben ritrovati, è il momento dedicato all'informazione di Brindisi e provincia. La cronaca in primo piano, un incidente ancora tutto da chiarire. Quello che è costato la vita un operaio brindisino all'interno dello stabilimento Gindal nella zona industriale, proprio oggi avrebbe compiuto 37 anni. Giovedì 14 marzo doveva essere un giorno di festa. Da trascorrere con la moglie, le sue due bambine, i genitori, avrebbe compiuto 37 anni. E invece il corpo di Gianfranco Conte è adagiato in una cella frigo dell'obitorio dell'ospedale Perrino in attesa che la procura disponga all'autopsia. Una decisione inevitabile. C'è tanto, troppo da chiarire sulla morte dell'operaio di Tuturano, dipendente della multinazionale Gindal, schiacciato da una pesantissima bobina di propilene e forse dalla stessa balaustra del carroponte che stava manovrando. L'incidente è avvenuto all'interno di una delle aziende più importanti che operano nella zona industriale di Brindisi, ma non è il primo. Nell'agosto dello scorso anno, un altro operaio, negli stessi capannoni della Gindal, perse l'uso di una mano stritolata da un macchinario. Travolto da un peso enorme, caduto dall'alto, Conte ha riportato lo schiacciamento della cassa toracica, soccorso immediatamente e trasportato all'ospedale Perrino. Per lui non c'è stato nulla da fare. La zona dell'azienda in cui è avvenuto l'incidente è stata posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria che ha delegato la polizia per tutti gli accertamenti. A lavoro anche gli ispettori dello Spesal per verificare se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate e comunque per accertare in che modo sia avvenuta la tragedia. Gianfranco Conte era un giovane molto apprezzato nella piccola comunità di Tuturano, un grande lavoratore legatissimo alla sua famiglia. Il padre e il fratello siedono a una falegnameria e la moglie ha avviato da poco una lavanderia self-service. Meno di due settimane fa, in un capannone a poche centinaia di metri di distanza dalla Gindal, perse la vita Giuseppe Petraglia, 40 anni, precipitando dal soffitto mentre effettuava lavori di ristrutturazione per conto della sua azienda. Rabbia e voglia di risposte concrete da parte dei sindacati dopo l'ennesimo incidente sul lavoro che ha portato alla morte di un operaio prendisino. E noi diciamo che questi sono omicidi, non è soltanto una tragedia che succede se il governo non interviene. Guardi c'è una forte affermazione del nostro segretario nazionale Pierpaolo Bombardieri che per scuotere le coscienze lui dice che cosa sarebbe successo in questo paese se la mafia avesse ucciso mille persone l'anno, quale sarebbe stato il senso di indignazione, la risposta dello Stato? Beh, quando succedono gli incidenti sul lavoro, le morti sul lavoro, penso che sia finito il momento del cordoglio, oggi bisogna intervenire. Un forte messaggio, quello del segretario generale della Will Puglia Gianni Ricci, a Brindisi in occasione del consiglio territoriale della Will Tech che parte dagli ultimi episodi di cronaca dalle morti sul lavoro, quello delle scorse ore di Gianfranco Conte e quello delle scorse giornate invece di Giuseppe Petraglia, due incidenti avvenuti in soli 13 giorni nel territorio brindisino che lanciano l'allarme al quale si unisce anche il segretario generale nazionale della Will Tech, Daniela Piras. Crediamo che sia fondamentale che il governo prenda atto di quello che sta accadendo e intervenga in modo reale, in modo concreto, non solo attraverso degli slogan e che agisca finalmente attraverso degli atti concreti per cercare di contrastare questo fenomeno e arrivare veramente a raggiungere l'obiettivo che è l'obiettivo della Will, quello di zero morti sul lavoro. Ci occupiamo ora di sindacati sul cambio appalto petrolchimico. Cambio di appalti all'interno del petrolchimico di Brindisi. Restano distanti le parti tra i sindacati e le ditte subentranti dopo il nuovo incontro avvenuto presso la sede di Confindustria. La FIMCIS spiega le difficoltà di questo accordo e annuncia una mobilitazione per la giornata di venerdì. Il terzo incontro con le aziende subentranti non ci convince quello che rimane di tutta la forza lavoro uscente, in quanto le aziende anche oggi hanno dichiarato che non riescono ad assorbire tutti i lavoratori, ma soprattutto non riescono ovviamente a reintegrare il salario che i lavoratori oggi percepiscono. Quindi per noi rimane fondamentale chiedere garanzie sui posti di lavoro che sul salario dei lavoratori. È fondamentale non continuare a perderli su un territorio già martoriato da migliaia di vertenze che oggi continuano a perdere posti di lavoro e forza sul salario. Crediamo fortemente che le istituzioni intervengano. Venerdì abbiamo dichiarato sciopero di tutte le aziende metalmeccaniche all'interno del petrochimico con un presidio presso la rotonda del break 24. Versalis e Danny Power devono iniziare effettivamente a prendere in considerazione quello che accade. Non si può continuare con queste gare a ribasso che ovviamente mettono in serio pericolo la forza lavoro e soprattutto il salario dei lavoratori e soprattutto ancora a maggior ragione la sicurezza dei lavoratori perché è chiaro che su queste gare a ribasso affinché vengano garantiti poi gli introiti delle aziende da qualche parte devono risparmiare. A Brindisi il materiale di risulta della pista ciclabile è abbandonato davanti al tribunale. Ci sono resti di marciapiede, ghiaia e polveri di cemento che volano, pietre e bottiglie di birra. No, non siamo in una discarica abusiva ma di fronte al tribunale di Brindisi. Incredibile ma vero. In tanti da mesi ci segnalavano lavori in corso chiedendoci cosa fosse questo cantiere. Si pensava ad esempio al rimodornamento dell'area parcheggio del tribunale e così abbiamo fatto gli approfondimenti del caso scoprendo che in realtà udite udite, secondo quanto ci è stato almeno comunicato dall'amministrazione comunale, si tratta del materiale abbandonato dalla ditta che avrebbe dovuto realizzare la pista ciclabile di Viale Aldomoro. Qui è tutto abbandonato, uno scempio totale, non ci sono altri termini e non ci sono altre parole neppure per definire questa bruttissima cartolina alle porte di Brindisi. Una situazione imbarazzante dal punto di vista puramente estetico. Tenete conto che qui in tribunale arrivano da ogni parte della provincia e della regione ma è anche una situazione di assoluta pericolosità perché nel frattempo la zona non è più in sicurezza, le recinzioni non esistono più, sono cadute, sono state divelte, quindi chiunque è a contatto con il pericolo, con questi grossi massi e tra l'altro quest'area si sta trasformando lentamente in una piccola discarica a cielo aperto. A questo punto in attesa di capire che fine farà il cantiere della pista ciclabile del quale ci siamo occupati tante volte ci chiediamo se non sia il caso di intervenire almeno in questa zona urgentemente prima che sia troppo tardi e che qualcuno si faccia male. Anche perché oltre ai fruttori del tribunale transitano da queste parti centinaia di ragazzi essendo a due passi dal liceo classico e in prossimità di importanti fermate degli autobus. Non solo, a causa di questo caos è stata anche chiusa una delle due corsie di marcia con conseguente eliminazione di numerosi parcheggi danno su danno appunto economico di sicurezza e soprattutto di immagine. Colline di rifiuti abbandonati con buste nere accatastate nel quartiere San Lorenzo di Francavilla Fontana dove è allarme sociale e sanitario. Le buste si accumulano da giorni e per giorni trasformandosi in colline di inciviltà per un allarme sociale e sanitario. Francavilla Fontana, quartiere San Lorenzo, siamo in Puglia anche se non pare. Il no alle buste nere è ordinato dalla Monteco prima ancora che dal comune e immaginato per favorire la qualità dell'indifferenziata ha restituito nel giro di pochi giorni cartoline e tutt'altro che lusinghiere. E se nel centro abitato capita di imbattersi in una busta nera abbandonata ad un incrocio nel popoloso quartiere periferico il fenomeno ha assunto dimensioni catastrofiche e se c'è chi pensa che la colpa sia tutta dei residenti c'è chi dà una vita nel quartiere e racconta tutta un'altra storia. Insomma le ipotesi su quanto sta accadendo sono tante. C'è una certezza, così non si può continuare. Tra panchine scassate e strade logore, tra verde pubblico abbandonato e sogni di rilancio ancora abbozzati, nessuna accusa, solo il racconto di una grande vergogna. Ed è in gravi condizioni il 23enne alla guida della Ford Fiesta che questa mattina è intorno alle 6.30 per cause ancora da accertare si è scontrata con una Golf. Il sinistro si è verificato sulla strada provinciale 28 che collega Francavilla Fontana e Ostuni. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il giovane ferito dall'abitacolo. Il ragazzo soccorso dai paramedici del 118 è stato poi portato in ospedale in codice rosso. E da Brindisi il primo appuntamento con tradizione e innovazione per le botteghe high tech. Si chiama botteghe high tech del percorso itinerante di artigianato digitale promosso dall'associazione Cube con il sostegno della regione Puglia nell'ambito dell'avviso pubblico capitale sociale 3.0 con quattro incontri previsti tra i mesi di marzo e giugno nel territorio della provincia Brindisino con l'appuntamento inaugurale svolto presso la sede di Molo 12 di Palazzo Guerrieri nella città adriatica. in due giorni di studio orientati sulla innovazione grazie ai macchinari del Fab Lab dalla base della stampa 3D al taglio laser all'intelligenza artificiale applicata ai social media e al tema dei finanziamenti pubblici legati all'avviso di impresa. si chiama botteghe in particolare appunto creando nella due giorni occasioni e momenti di diffusione di conoscenze su avvio di impresa quindi autoimprenditorialità stampa 3D e taglio laser associate anche a momenti di fundraising per aiutare gli artigiani e gli aspiranti tali a sviluppare dei progetti imprenditoriali e anche a comunicarlo sui strumenti digitali. Tradizione e innovazione ormai è necessario che vadano a braccetto per creare opportunità sul territorio e coinvolgere anche quelle fasce delle popolazioni cosiddette svantaggiate che sono rappresentate da NIT soggetti inoccupati disoccupati, immigrati e anche donne per creare nuove opportunità per il loro futuro a prescindere dall'età Termina qui il Tg dedicato a Brindisi e Provincia. Ci fermiamo per qualche istante. A tra poco. A Lecce è chiesta la sospensione per il comandante della Polizia Municipale. La caromana della prevenzione delle patologie oncologiche di genere ha fatto tappa in Salento per alcuni screening gratuiti a donne in difficoltà. Il sindaco di Tricase ha chiesto celerità per quanto riguarda la realizzazione del progetto sul secondo lotto della strada statale 275 all'indomani della notizia dell'aggiudicazione dei lavori del primo lotto. Bene trovati nuovamente in diretta il momento dell'informazione dedicata a Lecce e Provincia. A Lecce è stata chiesta la sospensione per il comandante di Polizia Municipale, il servizio di Maria Teresa Carrozzo. Il comandante della Polizia Locale Donato Zacchio di Lecce rischia la sospensione dal servizio fino a sei mesi, mentre è arrivata già la revoca della nomina di vicecomandante per Alessandro Negro. Continua così a far parlare l'inchiesta della finanza che appena un mese fa ha portato alla sospensione di due vigilesse e di un dipendente e scoperchiato un rodato sistema illecito, multe annullate, almeno 500, in cambio di favori e sostegno politico. Ma questa volta i provvedimenti partono da Palazzo Carafa, dall'ufficio provvedimenti disciplinari e prendono la firma del segretario generale. Pesanti riaccusa nei confronti di Zaccheo, appare inconfutabili, scrive il segretario rifarendosi a Zaccheo, che fosse a conoscenza e abbia tollerato fin dall'anno 2013 la persistente sistematica attività illecita di particolare gravità posta in essere dal personale assegnato alla struttura a cui è preposto. Secondo il segretario, insomma, Zaccheo sarebbe stato a conoscenza dei verbali annullati per favorire e avrebbe taciuto. Nei capi d'accusa, però, vengono evidenziate sistematiche pressioni per estromettere l'attuale comandante, da sostituire con persone aggredite e compiacente e, da ultimo, anche per estromettere Negro. Pressioni politiche sul comandante, insomma, perché l'elemento scomodo di cui sbarazzarsi, evidentemente, di il traccio, ha quel sistema di favori, come emerge dalle tante intercettazioni. E l'inchiesta ha sempre visto Zaccheo collaborare con la Procura e la Finanza. Di più è stato parte attiva nella fase di indagine. D'altra parte, Finanza, Procura e GIP non hanno rilevato alcune irregolarità nel comportamento del comandante. La situazione all'interno del comando di Vigi di Lecce si fa sempre più complessa, con accusi incrociate e sospetti di pressioni politiche. È emerso che il comandante sarebbe stato a conoscenza delle multe annullate in cambio di favori, ma la sua versione dei fatti è diversa da quella presentata dal segretario generale dell'ufficio disciplinare. Questa mattina la Carovana della Prevenzione delle patologie oncologiche di genere ha fatto tappa in Salento per alcuni screening gratuiti a donne in difficoltà. La Carovana della Prevenzione è il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile. Giovedì mattina ha raggiunto il Salento per offrire attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. È una grande soddisfazione essere riuscite ad avere qui la Carovana di Comen per la prevenzione al tumore al seno ed è veramente una maratona di solidarietà. L'Inner Will per il territorio sta facendo veramente molto e oggi è una giornata straordinaria. La prevenzione aiuta a salvare la vita. L'iniziativa che si è resa possibile grazie alla collaborazione tra Comen Puglia e tutte le socie dell'Inner Will Club di Tricase Santa Maria di Leuca ha permesso ad alcune donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che non rientrano negli screening della Regione Puglia di effettuare visite senologiche, ginecologiche e nutrizionali, vaccinazioni contro il papilloma virus grazie anche al supporto dell'Asle di Lecce, garantendo in modo concreto la prevenzione nelle sue diverse forme. Siamo qui oggi a sottolineare appunto l'importanza della prevenzione per quanto riguarda i tumori ginecologici che sono principalmente il tumore al seno e i tumori sul collo dell'utero, proprio perché la prevenzione ci dà la possibilità di agire appunto in tempo e prendere le situazioni ovviamente in uno stadio iniziale e garantire alla donna uno stato di sopravvivenza ovviamente lungo e risolvere completamente il problema. Quindi la prevenzione è diciamo una arma fondamentale che noi abbiamo contro i tumori femminili, quindi utilizziamola. A Monteruni di Lecce si è svolto un convegno per rievocare le vittime di femminicidio, in modo particolare Noemi Durini. Per lei e per tutte, per ricordare le vittime di femminicidio in modo particolare Noemi Durini, assassinata a specchia nel 2017 dal suo fidanzato, un delitto brutale che fecerà brividire il Salento. La madre segnata a vita non dimentica e il suo grido di dolore si leva al cielo, non solo per ricordare la figlia perduta, ma anche per essere ambasciatrice del messaggio della non violenza e del rispetto delle donne, che va veicolato sin dei teneri passi, nella scuola di infanzia e nei luoghi pubblici, come ieri sera, presso i laboratori urbani di Monteruni. Durante il convegno, organizzato da edizioni esperidi con il patrocinio della città di Monteruni di Lecce, in collaborazione con FIDAPA e associazione Casa di Noemi. Non è amore, è un ricordo che non sbiadisce e non sbiadirà mai. È un ricordo dell'ultimo post scritto da mia figlia Noemi Durini. Noi lo facciamo vedere, questo cortometraggio in tutte le scuole. È un cortometraggio che è stato realizzato dall'associazione Astrea per ricordare l'ultimo post di mia figlia Noemi. Un momento di riflessione intorno al romanzo Yael Perez e ai temi relativi all'essere donna oggi. Il grande problema della violenza di genere è un fenomeno fin troppo diffuso che non si riesce ad arginare. Il più delle volte si annida come un cancro tra le mura domestiche e nei rapporti d'amore. Sta nella forza delle donne ribellarsi e trovare il riscatto perché se vi umiliano, se vi picchiano, se vi vietano di vestire alla moda, se vi confinano in casa, se vi stalkerizzano e se vi trattano alla stregua di schiave, non è amore ed amore non si muore. Speriamo di aver dato un piccolo contributo per raggiungere finalmente la parità di genere contro ogni discriminazione, che sia sessista, che sia razziale, che sia morale e umana. Il sindaco di Tricasi ha chiesto celerità per quanto riguarda la realizzazione del progetto sul secondo lotto della strada statale, la 275. All'indomani della notizia dell'aggiudicazione dei lavori del primo lotto. Il sindaco di Tricasi Antonio Dedonno è intervenuto sul tema dei lavori di ammodernamento e adeguamento della strada statale 275, la maglie Leuca, chiedendo celerità per quanto riguarda la realizzazione degli interventi previsti anche sul secondo lotto. E di alcuni giorni fa, infatti, la notizia dell'aggiudicazione del maxi appalto limitatamente al primo tratto del progetto complessivo che va da Melpignano alla zona industriale di Tricasi. Per quanto riguarda il secondo invece, compreso tra lo svincolo Montesano-Andrano e Santa Maria di Leuca, il primo cittadino ha voluto sottolineare la necessità di mettere in sicurezza quel tratto di strada, teatro di numerosi e gravi incidenti accaduti anche recentemente. Finalmente il primo lotto vedrà la luce e di quello siamo certi, i tempi sono contingentati e l'appalto è stato fatto. Il secondo lotto è un problema perché non lo è dal punto di vista della volontà, tutti i consigli comunali si sono espressi sul tracciato, quindi quel passo è stato fatto. È chiaro che bisogna trovare i fondi, ma è altrettanto chiaro che nell'Emore occorre mettere in sicurezza alcuni tratti. Nel dicembre 2023 era stato presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica del secondo lotto al provveditorato alle opere pubbliche di Bari. La risposta dell'ente è attesa nei prossimi giorni, intanto nello stesso periodo i sindaci del Sud Salento interessati saranno convocati dall'ANAS a Bari per un tavolo tecnico. Noi la settimana prossima, al massimo 15 giorni, incontreremo ANAS perché purtroppo gli incidenti, soprattutto sul tratto Lugugnano-Alessano, continuano ad accadere perché sono strade frequentatissime, passano attraverso i paesi, non ci sono limiti di velocità e sono accaduti incidenti mortali, ma anche l'altro giorno ce n'è stato un altro con feriti, portati in codice rosso a Lecce. Noi dobbiamo comunque nell'Emore mettere in sicurezza la strada e poi accelerare il processo perché il secondo lotto vede la luce per la sicurezza ma anche per far raggiungere il Capodileo che è uno dei luoghi più belli d'Italia. Ed arriva la svolta per quanto riguarda la mobilità sostenibile. Generante il centro del capoluogo salentino verranno adottati trenini elettrici e aumentata le frequenze dei bus cittadini. Una vera e propria rivoluzione della viabilità che coinvolge tanto i mezzi quanto la frequenza del passaggio dei bus cittadini. La città di Lecce e il suo centro muovono ulteriormente guerra all'utilizzo dei mezzi di locomozione privati per cercare di limitare il traffico automobilistico. Numeri che attestano il capoluogo salentino tra i più elevati in Italia in termini di auto per famiglie con flussi veicolari di ingresso in città che determinano uno squilibrio evidente. Per questo l'amministrazione comunale ha deciso di incrementare il numero di corsi sia di inverno che d'estate con più collegamenti sino a mezzanotte. Inoltre saranno utilizzati in futuro bus elettrici nel centro storico. Ad esempio l'orario invernale dei bus sarà esteso passando dall'attuale fascia oraria 7.21 e quella futura 6.22, il sabato fino alle 24, frequenza quella del sabato 6.24 che durante il periodo estivo sarà mantenuta per tutti i mesi della bella stagione. Ci sarà inoltre un potenziamento del personale con 60 nuove assunzioni tra autisti e amministrativisti. Sarà poi introdotto un unico biglietto di corsa semplice dal costo di 1.20 che potrà essere utilizzato su tutti i mezzi per 60 minuti. Saranno poi messi a disposizione, come nella maggior parte delle città italiane e non solo, biglietti giornalieri o carnet da dieci corse. Insomma la guerra al traffico automobilistico leccese continua spedita, non oltre però i 30 km orari. Aria di aumenti in città, pare che le tariffe per le soste blu aumenteranno a breve. Ascoltiamo la collega. Aumenterà il prezzo dei parcheggi a breve, in più si pagherà anche durante i giorni festivili. Cosa ne pensa? Guardi, ormai paghiamo tutto quanto, diciamo, anche nelle altre città, nelle grandi città funziona così. Aumento dei prezzi dei grattini in tutta la città. Addio ai ticket da 60 centesimi. introduzione della tariffazione progressive nelle zone più centrali, con ticket da 3 euro dopo la terza ora e allargamento delle zone di sosta tariffata, quartiere Stadio, San Pio e Via Taranto. E poi stagli a pagamento nei festivi e fino a mezzanotte, durante le festività natalizie e nel periodo estivo. Questo è quanto prevede il piano economico finanziario della nuova SGM relativo alla sosta in città. Il documento, complementare a quello realizzato per il servizio di trasporto pubblico locale e al vaglio della Commissione Mobilità e approderà presto in Consiglio Comunale per l'approvazione finale. Mi sembra il caso di aumentarli anche perché costano già tanto. Non siamo a Monte Carlo ma siamo a Lecce. Così si riduce il traffico in centro. Il piano prevede numerose novità per quanto riguarda la gestione della sosta tariffata su strada e nei parcheggi di intescambio del Comune di Lecce. Sono contrario. Non ci vuole molto. Sono degli aumenti inopportuni in questo momento della nostra economia. E poi anche ingiustificati perché non si cambia il servizio. Il servizio è sempre lo stesso. Tra il 2024 e il 2025, infatti, è prevista la variazione dell'orario di tariffazione nelle zone da mezza a intera giornata. Diciamo che è un aspetto da considerare. Niente di particolare. Non ero poco consapevole di questo. In necessità di tutto. Dobbiamo per forza piegarci. Non è normale, non è giusto, è troppo alto. Tra l'altro abbiamo perso molti parcheggi per via delle piste ciclabili. Ed è tutto. Termina qui anche il Tg dedicato a Lecce e Provincia. Grazie per averci scelto, per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento di giornata. Rimani connesso. Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo. Grazie.